Buongiorno a tutti, sono Luciana Tognolli, sono di Bieno e approfitto di questo spazio offerto da Varsugana Web TV per presentare il mio primo libro, il mio primo racconto. Questo libro è nato camminando, è durante i miei cammini solitari che ho immaginato i personaggi che li ho caratterizzati e quando mi veniva in mente qualcosa subito annotavo sul piccolo taccuino e poi quando andavo a casa sviluppavo l'idea, mentre i luoghi che descrivo ampiamente nel libro sono luoghi che realmente ho visto, che realmente mi hanno emozionato. Il libro è la storia, è ambientata per la maggior parte in un paese di montagna e parla di una grande amicizia di due bambini diventati poi uomini che non si sono mai persi di vista nonostante la lontananza, nonostante abbiano scelto delle vite differenti. E parla anche di un grande amore perché io credo che alla fine l'amore centri sempre, l'amore che può essere l'amore per un uomo, per una donna, per un luogo, per un cibo, per un colore. Se ho stuzzicato, se non riuscite a stuzzicare la vostra curiosità, il libro è disponibile presso la libreria Al Ponte a Borgo Valsugana e nel caso buona lettura!